Da Palazzo Abatellis a Burgio in mostra le famose ceramiche realizzate in sei secoli. Vicky Sorci. Hanno lasciato la galleria regionale di Palazzo Abatellis a Palermo dove sono conservate per fare bella mostra di sé insieme alle altre maioliche del Museo di Burgio. Un prestito che mette un ulteriore tassello al percorso espositivo che racconta la produzione di ceramica di Burgio dalle origini al Novecento. Un progetto, il Museo 2.0, che guarda l'interazione con soggetti pubblici e privati in Italia e nell'area del Mediterraneo. Questo permetterà certamente di promuovere il concetto di museo o comunità dove da un lato si coltiva la bellezza della conoscenza e dall'altro si condividono importanti valori umani. Ospichiamo che questo sia l'inizio di un grande percorso di politica culturale che coinvolge non solo i musei del territorio ma i musei nazionali proprio per valorizzare una grande tradizione. Prima dell'inaugurazione una giornata di studio a Palazzo Abatellis dove è stata presentata una selezione di ceramiche provenienti dai depositi della galleria. La galleria di Palazzo Abatellis possiede un patrimonio enorme, spesso confinato nei depositi, quindi è importante che il rapporto con Burgio continui e continui appunto sotto il segno del rigore scientifico e della serietà metodologica.